Finalmente, finalmente, un argomento trash come Dio comanda. Infatti, dopo questa breve pausa estiva, torna il Diva Podcast e in questa puntata parliamo del Calippo Tour. Quindi sigla e a tra poco. Rappresento le stronze, le manipolatrici, le arviste. Essere perfetta è una priorità fondamentale. Questa è la mia vita da narcisista. Benvenuti in Diva Podcast. Allora, non so se il Calippo Tour sia famoso anche su YouTube. Non so se ne parli anche qui su YouTube perché è un fenomeno che si sta verificando. Cioè, che è andato in hype su TikTok fondamentalmente. Però, diciamo che è l'argomento più in hype di questi giorni. Quindi, potevo non parlarne. Assolutamente no. Ma prima di cominciare vorrei darvi un'info per quanto riguarda Diva Podcast. Dato che io, ragazzi, ci ho provato a mantenere per più di un anno una regolarità in Diva Podcast. Non preoccupatevi, non sta chiudendo. Non chiude il podcast, quindi potete stare tranquilli. Però ho deciso di non essere più regolare nel mandarlo in onda il martedì e il venerdì. Ma ho intenzione di renderlo più casuale. Nel senso che, quando avrò voglia, lo farò a seconda del giorno, indipendentemente dal giorno della settimana. E se ci saranno tanti argomenti di cui parlare, magari ne farò anche di più di due a settimana. Se non ci saranno particolari argomenti, non ne farò uscire. Però non più, appunto, con cadenza specifica settimanale. Questo perché sia io che la regia, diciamo che in questo periodo, cioè non siamo proprio al top. E quindi ci troviamo più rilassati a fare così, insomma. Quindi a interrompere la programmazione fissa del martedì e il venerdì. E essere un po' più random. In modo da fare come capita e, secondo me, anche fare più puntate. Senza il pensiero, deve uscire martedì, deve uscire venerdì. Cioè, questo fondamentalmente è il motivo per cui io non ho mai lavorato. Ovvero avere degli obblighi. Quindi non voglio impormeli da sola. Ci ho provato, ma non ce la posso fare. E niente, quindi a proposito di lavoro, perché qua parliamo di un altro lavoro, che è, diciamo, quello più antico del mondo, ovvero il Calippo Tour. Il Calippo Tour è un fenomeno, diciamo, un po' degradante che si sta, appunto, verificando. Ma andiamo a leggere, perché è uscito anche un articolo che riguarda il Calippo Tour sul Fatto Quotidiano. Allora, il Calippo Tour. 22enne, 22enne donna, va in giro per l'Italia facendo sesso orale a sconosciuti. Il folle fenomeno social. Non si parla del Calippo Algida, ma si parla del Calippo Umano, diciamo così. Allora, un fenomeno da analizzare con attenzione che ha radici profonde, forse anche di disagio. Ma va, non ce ne eravamo accorti. Viene da domandarsi dove andremo a finire. Anzi, dove già stiamo finendo ora. Mi sta parlando di Calippo Tour con i social media che ne fanno da cassa di risonanza. In fondo, non occorre molta immaginazione per capire che il termine Calippo non si riferisce alla famosa linea di gelati e ghiaccioli, ma piuttosto a un atto sessuale specifico, ovvero il pompelmo. La grande invenzione si deve a una ragazza che chiameremo A, quindi la ragazza non viene nominata in questo articolo del Fatto Quotidiano, la quale ha creato delle vere e proprie pagine sui social. Su TikTok conta più di 18.000 follower. Il canale Telegram più di 111.000 e ovviamente anche OnlyFans. Un suo video conta un milione e mezzo di visualizzazioni. Si tratta di un filmato pubblicato inizio agosto in cui diceva Nuova tappa del Calippo Tour. Sono appena arrivata a Martinsicuro in Abruzzo per proseguire il tour. Per chi non sapesse cos'è, io vado a mangiare calippi per tutta Italia. Se volete candidarvi, scrivetemi. Praticamente Ambra, si chiama Ambra questa ragazza, in realtà non si è inventata al Calippo Tour perché io ricordo che già qualcun altro anni fa aveva fatto un tour simile in cui appunto si mangiavano calippi in giro per l'Italia. Quindi l'invenzione non è nuova, ma sembra che abbia preso particolarmente piede in questa circostanza. Grazie ad Ambra appunto che ha avuto l'idea di riproporre questa trovata al fine di farci video che poi vende su OnlyFans. E questo ha creato una serie di polemiche assurde. Primo per ovviamente il degrado della situazione, nel senso che anche per i più aperti di mente io credo che il Calippo Tour sia qualcosa di veramente estremo perché andare a scalippare, diciamo, degli sconosciuti è qualcosa di abbastanza antigenico, qualcosa di difficile comprensione, diciamo così. e quindi anche i più, diciamo, mentalmente aperti sono anche loro, si sono ritrovati anche loro, diciamo, a non giudicare benissimo questa scelta, questa situazione che è sì lavorativa in quanto riguarda i contenuti creati per la piattaforma OnlyFans. Non con degli attori, ma con dei ragazzi casuali, i follower, i propri follower e appunto persone che di fatto non sono conosciute. E quindi, chiaramente, su tutta TikTok si è scatenato il caso e sono usciti tanti video in merito, tra cui anche i miei, perché anch'io mi sono scatenata con il Calippo Tour allo scopo di fare dei contenuti e delle visualizzazioni, dicendo però ovviamente quello che penso. Ma andiamo a vedere chi è questa ragazza, chi è Ambra. Eccola qua. La vediamo, bella sorridente, in un video qualsiasi sempre riguardante il Calippo Tour. Ovviamente questo ha portato a un sacco di polemiche e partiamo con la mia di polemica che ho girato insieme a Eddie, il mio amico Eddie, mentre eravamo in piscina. Quindi, regia, manda qui il mio video con Eddie. Ci troviamo in una fantastica località perché questa è la prima tappa del Calippo Tour di Eddie. Dai, no, non è vero, raga. Non sei contento di fare la tua prima tappa del Calippo Tour? Felicissimo. Questo è un video polemica. Sì, facciamo i moralisti, mi sa. Facciamo i moralisti, perché il Calippo Tour ha scandalizzato anche noi. Pensa alla rosicona di prima. Infatti, cosa... esatto, lì verrebbe traumatizzata a vita. Fateci sapere se volete lo story time della rosicona. Io credo che stiamo giungendo ad un degrado piuttosto considerevole. Che ne pensi, Eddie, del Calippo Tour? Beh, assolutamente penso che sia un fenomeno totalmente tossico e che non porta effettivamente nulla di concreto, cioè se non sputtanarsi alla fine ti autosputtani e basta. Ma sai che comunque questa ragazza che fa il Calippo Tour non è... non è sto genio, perché io mi ricordo che anni fa l'aveva fatto anche un'altra ragazza il Calippo Tour. Non mi ricordo chi era. Non mi ricordo chi era, però c'era una ragazza che l'aveva fatto una... Ho pensato magari una trovata fake per fare le visual. Quello ci sta. Non sono contraria a fare cose fake per le visual, assolutamente, perché è il nostro lavoro di creator. A quanto pare non è fake, perché ci sono i video che girano di questi Calippi, di questi Calippi. Quindi è vero lei prende il Calippi in giro per l'Italia? Una cosa squalida, perché gli uomini con cui lo fa non è che sono attori, è diverso se sono attori, capisci? Cioè è diverso se lavori con attori, ma sono gente comune, plebei. I Calippi e i plebei, cioè hai capito, è brutto. Però è anche vero che ognuno... ognuno fa quello che vuole, vero Eddie? Ognuno fa quello che vuole, su questo non si può stare a sindacare. Poi il fatto che sicuramente se una persona ha maggior ragione non faccia un qualcosa di lavoro, di attinente, ma semplicemente per fare visual e passatempo, sicuramente è un modo molto tangibile per rovinare la propria reputazione per tempo indeterminato, sostanzialmente. Non che la nostra dignità sia tanto superiore, cioè questo precisiamo. Questo precisiamolo. Però sappiamo anche che la dignità è un concetto relativo, questo è da dire, quindi ognuno ha la propria. Quindi se una persona si sente bene a fare quello che fa, giustissimo. Assolutamente. Però certamente da fuori non è particolarmente edificante fare il Calippo Tour, insomma, degli sconosciuti imbeccati per strada nelle stazioni. Oltre a me, Eddie, appunto anche tanti amici creator si sono espressi, tra cui anche Samuele, che è un creator che seguo e che adoro, che ha parlato meglio anche del discorso riguardo a fare questi Calippi a gente comune piuttosto che a professionisti. Non confondiamo coloro che fanno il Calippo Tour con le pornostar. Fare le pornoattrici è una professione. Andare in giro a fare il Calippo Tour con estranei non lo è. Anche a livello di sicurezza e di norme igieniche la cosa è un tantino differente. Dettaglio non da poco conto è che fare le pornoattrici è legale. Fare il Calippo Tour è legale soltanto se lo fai per pura passione, perché se lo fai per scopo di lucro non lo è più. Quindi già qui capiamo che parliamo di due categorie completamente differenti. Inoltre, se proprio vogliamo parlare di pornoattrici, è pieno di ex porno star pentite. Non sempre le scelte che si fanno quando sei giovani sono condivisibili quando sei in età più avanzata. Io mi ricordo ancora lo scherzo che avevano fatto a Deva Enger con complice la figlia, la quale le aveva fatto credere di voler entrare nell'industria del porno. Eva aveva dato un'escandescenza e lei è un ex porno star, quindi diciamo non è proprio l'immagine della bigotta. Poi io, questa ragazza dei Calippo Tour, le auguro di arrivare dove vuole, magari in posto un po' più di classe rispetto alle stazioni. Chiaramente i video sono tantissimi in cui si parla del Calippo Tour, quasi tutti contrari alla scelta di intraprendere questo Calippo Tour. La ragazza, Ambra, la creatrice del Calippo Tour, chiaramente ha risposto a quasi tutti i video contro di lei per dire la sua opinione, fare gli stitch e chiaramente alimentare questo hype. E ha risposto anche al nostro, quello di me, di Eddie. Quindi adesso lo andremo a vedere insieme. Questa è la sua risposta. Ho pensato magari una trovata fake per fare le visual. Quando ci stai, non sono contraria a fare cose fake per le visual, assolutamente, perché è il nostro lavoro di creator. A quanto pare non è fake, perché ci sono i video che girano di questi Calippi, di questi Calippi. Quindi è vero lei prende il Calippo in giro per l'Italia. Quindi tu mi stai dicendo che il lavoro di un creator è mentire al proprio pubblico? Capisco che per voi influencer è diventata una cosa normale mentire al vostro pubblico, ma io non sono un influencer. Non ce la farei mai ad ingannare i miei follower, coloro che mi sostengono tutti i giorni. Perché dovrei ingannarli? Io il Calippo Tour lo sto facendo, sono contenta di farlo e ovviamente mi piace, mi diverto. Quindi tu mi stai dicendo che sarebbe stato meglio averlo fatto finto, il Calippo Tour? Veramente non ti sto capendo. Non è che sono attori, è diverso se sono attori, capisci? È diverso se lavori con attori, ma sono gente comune, plebei. I Calippi e i plebei, cioè capito, è brutto. Prima cosa, io non guardo chi è famoso, chi ha soldi, queste cose qua. Poi seconda cosa, reputare una persona comune, plebea, non la reputo una cosa molto carina. Io ragazzi sono una persona semplice, mi trovo bene con le persone semplici, comuni. Non mi piacciono le persone che se la tirano, come se fossero Dio scesi in terra, per dirci. Faccio fare il Calippo Tour, insomma, degli sconosciuti, imbeccati per strada nelle stazioni. Comunque questa cosa che io vado nelle stazioni, becco gli sconosciuti, non è assolutamente vera. Ci tengo a precisarlo, eh. Le persone dei video sono i miei follower, persone che comunque li ho conosciute. Ci ho creato un rapporto, abbiamo parlato, eccetera. E' inutile che andate a dire che io prendo le persone per le stazioni di qua e di là, perché non è vero. Quindi smettetela di fare disinformazione. Cioè, smettetela, perché fate ridere. Beh, allora, diciamo, carambra, che sì, avevamo capito che tu non raccattassi gli sconosciuti casuali che passavano dalle stazioni. Però, dato che molti di questi video sono stati girati nelle stazioni di lei che aspettava questi ragazzi follower che l'andavano a prendere, insomma, la cosa non ha dato un'idea molto pulita della cosa. E soprattutto i follower sono sconosciuti. I follower sono sconosciuti. Anche perché abbiamo visto il video in cui lei è a Torino e dice se siete di Torino scrivetemi tutto, no? Quindi io mi chiedo quanto tempo lei abbia per creare un rapporto con queste persone a cui fa i calippi se il giorno stesso in cui è a Torino dice scrivetemi. Quindi quelli sono degli sconosciuti. Non sono dei follower, ma sono degli sconosciuti. Io ho tantissimi follower, ma nessuno di questi per me è una persona conosciuta. Non li conosco. Quindi è normale che siano per me degli sconosciuti. Noi non siamo sconosciuti per loro, ma loro sono sconosciuti per noi. Quindi questo rende il gioco del Calippo Tour molto pericoloso, perché appunto non si può sapere con chi si sta avendo davvero a che fare e tutto. Poi con alcuni sicuramente avrà parlato un po' di più, con altri di meno, e altri li avrà beccati in poco tempo. Quindi si tratta sempre e comunque di sconosciuti. Ma io ho fatto anche un altro video che va non solo ad accusare di squallore, diciamo, Ambra, la ragazza che ha ideato questo Calippo Tour, ma anche gli uomini. Perché vogliamo parlare anche di questi uomini che accettano Calippi da una ragazzina che si inventa il Calippo Tour sui social invece di farseli fare dalle loro fidanzate. E quindi andiamo a vedere il video regia in cui ho parlato anche di questo. C'è una cosa molto importante che non ho detto riguardo al Calippo Tour. Non voglio passare per femminista nel dire questa cosa perché sapete che io non sono femminista. Preferirei essere comunista che femminista. Vabbè, no, non esageriamo. Vogliamo parlare di quanto sono sfigati gli uomini che si candidano per il Calippo Tour. Specifico che io non sono contro la prostituzione, l'escortaggio, anzi reputo che sia un servizio necessario per chi ha bisogno di usufruirne. Però arrivare a contattare una ragazzina per farsi fare il Calippo è qualcosa di davvero degradante non solo per lei ma anche per gli uomini che aderiscono a questa iniziativa. Perché un conto è contattare una escort professionista e un conto una ragazzina che fa i Calippi andando in giro per l'Italia a raccattarla nelle stazioni. Poi non si sa bene se questi Calippi siano gratuiti o a pagamento. Una cosa estremamente triste che degrada oltre che il genere femminile anche quello maschile. Vediamo cosa ne pensa un uomo. Ma onestamente io penso che un uomo che vada comunque a candidarsi nei confronti di una ragazzina che fa il Calippo Tour sui social sia ad un livello nettamente più deplorevole del esempio andare in auto in tangenziale a cercare effettivamente il rapporto sostanzialmente. A seguito di quest'altro mio video in cui vado ad analizzare il genere maschile che si candida appunto per ricevere questi Calippi perché comunque si tratta sempre di sesso promiscuo. Adesso noi sappiamo come sono gli uomini però insomma diciamo che c'è un limite a tutto anche per loro a mio parere. e qualcuno si è permesso anche a seguito di queste mie esternazioni questi miei giudizi morali di darmi dell'incoerente di darmi dell'incoerente vabbè sicuramente senza conoscermi perché anche tu fai Calippi e quant'altro. Allora io ho fatto un ennesimo video su TikTok per spiegare che io dall'alto del mio body count 1 probabilmente sono una delle pochissime sul web forse in assoluto quella più pulita a livello sessuale che può permettersi di giudicare chi fa i Calippi in giro perché poi giustamente Ambra in un video risposta lei diceva che tutte queste donne che la criticavano per il Calippo Tour in realtà anche loro vanno a fare Calippi in giro e hanno fatto Calippi quando avevano la sua età e questo è anche vero nel senso che ci sono tantissime donne che non lo dicono che però insomma di Calippi ne fanno e come e questo è vero lei ha ragione nel dire non potete giudicare me quando voi fate le stesse cose al di là del fatto che non si tratti della stessa modalità di fare Calippi agli sconosciuti però insomma diciamo che chi non ha peccato scaglie la prima pietra e quindi eccomi io scaglio la pietra io scaglio la pietra perché appunto da donna che ha body count 1 che quindi è stata letto in modo completo e totale con una sola persona e che non ha mai fatto sesso in giro non ha mai fatto Calippi in giro mi sento coerente nel mio giudizio qualcuno ha avuto da ridire il fatto che io abbia praticato del BDSM ma a parte il fatto che appunto sono cose che ho praticato per una mia curiosità di provare ma il BDSM non implica nessun contatto intimo con la persona dominante la donna dominante quindi non si può fare questo tipo di paragone soprattutto le pratiche BDSM che ho provato le ho provate con persone conosciute e non con persone sconosciute stiamo parlando di tutta un'altra cosa che non è neanche lontanamente paragonabile al Calippo Tour poi certo anche io ho i fan se appunto produco contenuti tra cui ho anche prodotto contenuti BDSM per le varie piattaforme ma non può essere paragonabile questo al fare Calippi anche perché il BDSM prevede l'umiliazione dell'uomo si parla davvero di tutt'altra cosa e quindi le persone che mi danno dell'incoerente proprio non hanno niente a cui appigliarsi poi se vogliamo parlare di altro di opinioni estreme di trash di queste cose ne ho fatte a bizzeffe però sessualmente io sono non dico santa perché comunque le cose BDSM ce le mettiamo però comunque quasi praticamente rispetto alla maggior parte della popolazione femminile soprattutto quella sui social tra l'altro prima mi è capitato di vedere un video dell'ennesima influencer che è stata sgammata a fare la escort quindi purtroppo c'è in giro ragazzi un troiaio che voi non vi immaginate che devo dire che da un lato preferisco una ambra che dice apertamente senza vergogna di fare il calippo tour piuttosto che quelle che non lo dicono lo fanno di nascosto spacciandosi per influencer una cosa che ammiro di ambra nel video in cui ha risposto a me è che lei abbia detto io non sono un influencer sono una ragazza normale che fa le cose normali e meno male perché invece ci sono tante tante influencer molto peggio di lei che si spacciano per modelle influencer attrici creatrici di brand e poi fanno le escort e poi fanno i mignottoni svalutando andando a svalutare tutta la nostra categoria di influencer e creator perché poi alla fine che cosa pensa la gente pensa che siamo tutte puttane e questo non fa piacere io ho parlato tanto del discorso diciamo influence court su tiktok è un fenomeno a cui io sono estremamente contraria perché sta prendendo una deriva davvero degradante cioè voi non potete immaginarvi voi che non siete in questo settore quanto il mondo dello spettacolo della televisione e purtroppo anche il mondo social bazzichi di escort vi posso dire che la maggior parte delle subrette televisive che voi conoscete che seguite in tv sono escort cioè nel senso erano escort prima di diventare famose no e quindi si passa da lì per finire in televisione stessa cosa sui social si sta verificando lo stesso fenomeno la maggioranza delle influencer sono delle escort voi pensate che siano influencer tiktoker e invece sono delle escort cioè che è una cosa davvero molto molto triste proprio perché poi ci vanno in mezzo anche le altre che non lo sono e quindi faccio magari io il video sul calippo tour e qualcuno scrive stai zitta che anche tu prendi i calippi quando non è così e non è così solo perché lo fanno tutte le altre ci sono per fortuna delle creator e delle influencer che non sono di questo tipo che sono persone serie ma purtroppo non ci caga nessuno perché comunque la maggioranza invece fanno il lavoro più antico del mondo e questa è una cosa che sono sempre stata contraria io nel senso io pur avendo sempre fatto lavoro nell'ambito dell'adult con video di un certo tipo eccetera però fare l'escort è davvero pesante qualcosa che va a denigrare tutta la categoria delle creator che siano creator per adulti che siano creator normali però questo accade quindi diciamo che il degrado social da questo punto di vista è sempre più potente e inarrestabile diciamo così tra l'altro ecco c'è da dire che non solo Ambra sta facendo il calippo tour ma anche altre ragazze ve ne faccio vedere casualmente una ragazzi ultimamente ricevo tantissimi messaggi in cui mi insultano per aver copiato l'Ambra ma ragazzi Ambra è la mia amica ok io non mi permetterò mai mai di copiare idee di qualcuno soprattutto idee della mia amica stretta con cui faremo anche altre tappe insieme io spero che non farete più cattivi con me anche perché grazie a questo tour ho conosciuto tantissima gente che è diventata speciale per me ecco mi immagino quanta gente speciale abbia conosciuto comunque appunto vediamo che questo fenomeno si sta diffondendo e una delle critiche più importanti questa è una critica che non è arrivata da me perché a me non me ne può fregare di meno di cosa fanno le persone io chiaramente sto facendo questi contenuti per le mie visual perché è un argomento di attualità però molte molte persone stanno lamentando il fatto che sia proprio a causa dei social della deriva sociale causata dai social che tante tante ragazze tanti ragazzi stanno prendendo delle strade diciamo sbagliate di cui poi eventualmente si pentiranno in futuro io io penso che queste persone qua siano comunque abbastanza convinte di quello che stanno facendo non mi sembrano delle sprovvedute come non era una sprovveduta a Maria Sofia si è fatto tanto caos l'anno scorso per Maria Sofia anche se Maria Sofia non è arrivata al livello di fare un calippo tour ma lei alla fine quello che ha fatto era semplicemente aprirsi un normalissimo profilo di fans e pubblicare alcune delle sue delle sue cose intime e quindi comunque diverso dal calippo tour però insomma lei io ho sempre difeso Maria Sofia perché è convinta di quello che faceva il calippo tour non è che sono contraria però chiaramente mi fa schifo e quindi lo dico esterno il mio il mio disgusto in merito perché appunto secondo me fare cose con sconosciuti è qualcosa di impensabile però ognuno la pensa come vuole riguardo al degrado sociale alla deriva social diciamo che sì chiaramente non è lei la causa del fatto che in futuro ci sarà una libertà sessuale ancora maggiore però fondamentalmente diciamo che le cose stanno evolvendo in quella direzione che per essere famosi per fare soldi si è capito che il sesso è una via per farne tanti per avere successo e quindi il sesso viene utilizzato a questo fine a fine di fine economico ed è una cosa che in realtà è sempre stata non è solo ora il fatto che adesso avvenga sui social la rende pubblica la rende a disposizione di tutti visibile a tutti e penso anch'io che questo provocherà sempre più persone che vanno a cercarsi lavori di questo tipo che appunto avranno idee di questo tipo e che avranno sempre meno vergogna di mostrarsi sui social di mostrare la propria intimità sui social questa è sicuramente una cosa che accadrà e vendere il sesso sarà proprio all'ordine del giorno diventerà normale fare OnlyFans fare queste trovate utilizzare il sesso per guadagno però in realtà è sempre stato normale quello che può capitare adesso sia che per il fenomeno dell'emulazione altri certo potrebbero pensare che sia una strada facile però io credo che comunque le persone che non sono portate a questo continueranno anche a fare dei lavori normali e a fare cose normali insomma credo che non tutti siano così tanto influenzabili e ci voglia comunque una certa personalità e un certo talento anche per fare i calippi perché non è sicuramente da tutte avere questo talento questo slancio anche magari ormonale perché sessualmente disinibite e vogliose può essere per mille per mille motivi però quelle che da ora in poi lo faranno in pubblico sono comunque le stesse che senza holly fans lo avrebbero fatto in privato quelle che comunque sarebbero andate nei cesti delle discoteche a fare i calippi quindi alla fine se una per dirla in breve senza troppi giri di parole se una è mignotta è mignotta detto così che sia solo i fans che sia nei cesti delle discoteche se una è mignotta è mignotta questa natura non si cambia quindi alla fine quello che cambia ora è che tutto ciò è molto molto più visibile ma fatemi sapere voi che cosa ne pensate del calippo tour se ne avevate sentito parlare prima qui su youtube se lo ritenete qualcosa di troppo estremo o se pensate che invece sia un'espressione della libertà sessuale femminile lasciate un commento e noi ci vediamo alla prossima puntata di Diva Podcast di Diva Podcast